Ciao a tutti! Oggi prepareremo il caffè americano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, latte, zucchero, caffè, amaro e vanillina. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte e l'acqua. Ed azioniamo il bimbi. Ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il caffè che può essere sostituito con due cucchiaini di caffè solubile. Lo zucchero, la vanillina e il cacao amaro. ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 2. Il caffè è pronto. Serviamolo. Caffè americano. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.